Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati da questo gioco Siamo arrivati ragazzi Finalmente su WWE 2K16 Signore se si dice così In inglese penso che si Ho fatto una intro un po' pazzarella signori Finalmente siamo qua Sul nuovo WWE ragazzi Era tanto che lo aspettavamo tutti quanti insieme Ho pubblicato una foto su Instagram Siete impazziti di gioia anche voi Cioè ragazzi veramente non vedevo l'ora Che uscisse questo gioco Infatti ieri come l'ho preordinato Sono subito scaricato E mi sono fatto già una o due partite E ragazzi miei è cambiato notevolmente Ho visto molte modifiche e molti cambiamenti Che sono molto belli Andiamo subito oggi Non ci facciamo Allora per il momento non ci facciamo la carriera Perché voglio sapere da voi Se ovviamente volete che all'inizio oppure no Ma sicuramente ragazzi la inizieremo senza ombra di dubbio Ci andiamo a fare oggi un bello esibizione Mi avete detto Ci andiamo a fare oggi un bellissimo 2K Showcase signori Se si dice sempre così in inglese Quindi ci andiamo a fare un'esibizione normale ragazzi Ma non proprio normalissima Ci andiamo a fare Un primo incontro Un bel hail di Nacelle Signori di Nacelle Ce l'andiamo a fare immediatamente Un bel combattimento Anche perché me l'avete chiesto veramente tanti Di farlo come primo combattimento qua Ma ragazzuoli Come ben stai vedendo Abbiamo anche Arnold Schwarzenegger Signori Perché ho preso anche il pacchetto Il contenuto Visto che l'ho preordinato Mi hanno dato anche Schwarzenegger Se mai ci possiamo fare Un bel incontro Anche lui Ma anzi Facciamo così Ci andiamo a fare oggi Proprio un bel incontro Con Schwarzenegger Signori Subito così In più Ci andiamo a fare Casuale Casuale Vai vediamo un po' Pronti? 1 Ecco Big Show Perfetto E ci siamo Signori Siamo nell'incontro Attesissimo Schwarzenegger Big Show Ecco Ammazza Ammazza Sono arrivato Già rompendo questi sganazzoni Ah Comunque ragazzi Adesso noterete veramente Tanto la differenza Per quanto riguarda Il movimento Dei giocatori pure Comunque come vengono fatte le prese Proprio il movimento Che è comunque più fluido Anche i calci Vedete È molto più Vedete come sono fatti Fatto bene comunque È fatto veramente bene Anche se dobbiamo stare attenti Perché Oddio Oh mio Dio Oh mio Dio Pam Comunque ragazzi Schwarzenegger pure È fatto benissimo Cioè i personaggi Sono qualcosa di Di unico Veramente È fatto Ben fatto proprio Ragazzi Che sta a fare Oh È la madonna Madonna Guarda Mi ha incazzato Schwarzenegger Pam Mamma mia ragazzi Io credo che ovviamente Per Vieni qua Baffa culo Per uscire dal ring Sicuramente dobbiamo fare Tipo la mossa finale Una mossa speciale Verso le Dov'ai io Dov'ai io Sono offeso Te sei offeso A pezzo di merda Te sei offeso Te sei offeso Eh Io ti visto come il culo Vieni qua Ti visto assa Boom Ah È l'orca troia Che pezza Porca Aia Stai cazzato Stai cazzato Sfaschenegger Parmigiano Reggiano Signori È fighissimo Vieni qua Pezzo di merda Vieni qua Regà voglio la mossa finale Perché gliela devo fare Assolutamente Regà Ci abbiamo anche la special Ci abbiamo la special Non so se che la posso fare Io l'ho fatta Boom Ragazzi Comunque Qua pure ho bisogno di ruolo Del vostro consiglio Perché Mi dovete dire Gentilmente Che ancora non l'ho capito Orca troia Che male Come si fa ad uscire Dalla cella ragazzi Mi dovete dire gentilmente Come si fa ad uscire Dalla cella Perché Non l'ho capito Non l'ho realmente Capito Io sto provando A dargli le botte Ma sicuramente Stai con qualche mossa Speciale Forse Addirittura Potrebbe essere così Perché se io ce lo prendo E ce lo schiaffo Eh vedete Non ci va Non ci va No Non ci va No Ho levato il bracetto Allora Non lo volevo levare Vieni qua Vieni sopra Vieni sopra Vieni No Non l'ha Però vabbè Mi facciamo anche la mossa Oh Non sto struzzando Eh Oddio Oddio Mamma Mamma mia ragazzi Spettacolare proprio Oe Fammi vedere un po' I nostri muscoli Signori Al Big Show Vieni qua Vieni qua Che ti voglio far Cascicare il rubato Aia Aia Bam Mossa speciale Signori Boom No Non lo fa Non riesco a farlo Ragazzi Mossa finale caricata Vediamo un po' Madonna come si è impettito Ragazzi Sfazzenegger Ancora Ancora questa Quindi non la fa Lui la mossa così Come funziona sto coso Non so cosa io ho fatto Però va bene così Bam E lo metto a dormire Signori E ce ne andiamo su Perché ci siamo stancati Di Big Show Noi Ci siamo Stancati Andiamocene sopra Vieni qua Guarda i miei muscoli Bodybuilder Adesso ti vengo a Spaccare il culo Big Show Eh Guardalo Guardalo Tutto fiero Tutto fiero Oh il cattorea Che botta Aia Stava a scherzare Stava a scherzare No Big Show Non mi rompe Li coglioni Cosa Cosa Bastardo di merda Ma vaffan cuore Bam Vai così A dormire Va ancora qui Arnold Pazzarega Schieramento Schieramento Proviamo a schierare Ragazzi Proviamo a schienarlo Vai A me che non fa fuga One Two Uh madre Big Show Attenzione Sale sulle corde Sale sulle corde Si butta Mamma con il ginocchio In the face Vieni qua Eh Pezzettino di fa Oh che sto fa Oh Oddio Madonna le botte assurde Proprio C'ho la special Signori La special La special La special Mossa speciale Signori Bam Vabbè come mossa speciale Non è che c'ha chissà che cosa Mossa finale caricata Ci riprovo Ma non ho capito bene Quello che devo fare Con questa mossa finale Non ho ben capito Però La stiamo rifacendo di nuovo No Questa c'ha la libera Oh Perché Questa è la diversa Oh The Terminator Sì Questa Dobbiamo concludere Oh Oh Alleluia Gliel'abbiamo fatta 792 milioni Raga Guarda quanto è fatto bene Però un cazzato fracico Fatto benissimo Signori Guarda qua che roba Soffocate Quelle micidiali Porco due Bam Bello ragazzi È fatto veramente Divinamente Eccolo qua Arnold Svassenecker Signori Micca come No raga È fatto veramente Benissimo Ragazzi Facciamo così Questo è un incontro Volevo farvi vedere Esattamente un incontro Perché Per dirvi Per farmi sapere Se volete La modalità carriera Cioè andiamo a creare Una superstar Quindi mi raccomando Fatemi sapere qua sotto In i commenti Consigliatemi E ditemi Come si fa a uscire Da queste cazzo di celle Perché io non ho ancora Capito come lo devo fare Quindi ragazzi Io spero che questo video Sia piaciuto È un grande ritorno Nel nuovo WWE Spero che anche voi Siete contenti Spero che questo video Possa raggiungere Tanti like ragazzi Per farmi vedere Volete anche voi Questo gioco Più che mai E noi ci vediamo Nel prossimo appuntamento Tutti i soldi Stanno in descrizione Come Instagram Facebook E Instant Gaming Alla prossima puntata Da vostro gioco di legno Ciao ragazzi